Impaurito, debilitato e bagnato, è finito nel piovego, probabilmente per sfuggire al servizio veterinario. Brutta avventura questa mattina per un cane. Stiamo cercando di risolvere questo cane. Ma in difficoltà, diceva che era deperito? Sì, sembra di sì. La segnalazione alle forze dell'ordine è arrivata da alcuni passanti che hanno notato il cane sotto il ponte dei Graissi, alla Stanga. Una volta in acqua, si è trovato in difficoltà, rischiando di annegare. Io l'ho visto a Granze, non l'ho visto qua, l'ho visto di là. Sul posto, tanti curiosi hanno seguito con apprezzione le fasi di salvataggio. I vigili del fuoco hanno faticato parecchio per recuperare Fido, che impaurito tentava di allontanarsi. Ce l'abbiamo fatta? Ce l'abbiamo fatta. Tutto è bene, quel che finisce bene. Il cane in questo momento è stato preso e portato all'interno del furgone della polizia veterinaria. È stato fondamentale l'intervento dei vigili del fuoco. A quanto pare ha un microchip, quindi c'è anche un proprietario. Grazie. 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 Grazie.